Ciao a tutti, noi siamo in partenza, siamo riusciti ad essere in orario, più o meno, però abbastanza. Andremo alla prima tappa, sarà dopo Ulzio, adesso in questo momento non mi ricordo benissimo il nome, ma volevo soltanto a volare, bravissimo Nanà, e volevo soltanto farvi vedere in che condizioni è il nostro camper, perché il punto non è andare in vacanza, il punto è traslocare questo. E allora io vi faccio vedere in che situazione in questo momento stiamo vivendo bambini, bambini e pistacchi, e poi c'è di tutto, da tutte le parti, ma noi abbiamo molta fiducia, adesso io piano piano, come una poperaia, cercherò di mettere a posto e riordinare dentro armadi che non ho. E ciao, ci vediamo dopo, ciao ciao.